Mi ricordo quando mi hai chiamato, no, 4-0, Frosinone, mi chiami, dici, vieni, vieni, io vengo, capito? Spettavo che mi chiamassi prima, mi devo bisognare, vieni, vieni, vabbè, ci spostai, va bene. Però rispetto di squadra, di quello che ho fatto, di come sono andate le cose, è chiaro che a un certo punto è ovvio che io ti devo rispondere, perciò ho preso questa squadra in mano, sono andato a Milano, ho vinto la partita, i giocatori sono arrivati lì, con atteggiamento, non è giusto perché perciò abbiamo vinto la prima partita, poi ho detto che in classifica, poi c'è avuto, è arrivato lì i giornalisti, mi chiedo che cazzo, fai che cazzo, io dico che cazzo, vabbè, fammi la guardia.